Comprendiamo i cittadini che si sono vaccinati e li rispettiamo. Chiediamo anche rispetto per la nostra scelta, di non vaccinarsi e di non sottoporsi al Green Pass. E' un no alle discriminazioni quello che arriva da Davide Rossi, ex vicepresidente della provincia di Pesero Urbino e già assessore del comune di Fano, che torna a rilasciare un'intervista a Fano TV per lanciare un appello alla popolazione e per far comprendere le ragioni della loro contrarietà. Infatti Rossi, insieme a un gruppo di persone della vallata del Metauro, tra cui i medici, docenti, avvocati e imprenditori, continua a rifiutare le imposizioni del governo, tra le quali il certificato verde, che provoca una serie difficoltà, detto sino al punto di rischiare di rimanere senza stipendio. Si tratta di costituire un precedente pericoloso. Cioè diamo allo Stato la possibilità di disporre dei nostri corpi. È la biopolitica, si chiama, ed è una cosa estremamente rischiosa per il futuro. Questi farmaci sono ancora sperimentali, come viene attestato dal sito dell'AIFA, dove si dice che la sperimentazione per Pfizer terminerà a dicembre 2023 e per Moderna terminerà a dicembre 2022. Quindi fino a quel momento si naviga nell'ignoto. Ci sono anche altri accertamenti che non sono stati eseguiti? Sì, nei documenti illustrativi di questi farmaci viene detto esplicitamente e ufficialmente che Pfizer non ha condotto studi né sul potenziale cancerogeno né sulla genotossicità di questi farmaci. La genotossicità è la capacità di una sostanza di danneggiare le cellule del nostro DNA. Quindi Pfizer non ha condotto studi in merito e questo è normale perché ha dovuto immettere in commercio il farmaco in 448. Moderna ha fatto studi sulla genotossicità ma non sul potenziale cancerogeno. Qual è il messaggio che volete lanciare ai cittadini? Il messaggio è che noi non ci fidiamo di questo Stato fino al punto di consegnarli i nostri corpi. Questo è lo stesso Stato di cui prima del Covid-19 pochi cittadini si fidavano. E quindi è lo stesso Stato che ha chiuso 11 ospedali nella regione Marche negli ultimi anni. Attenzione perché il Green Pass oggi magari lo condividete perché è per imporre l'obbligo vaccinale ma è uno strumento che potrà essere utilizzato dallo Stato in futuro per imporre qualsiasi altro obbligo. Ad esempio non ritardate a pagare le tasse o una bolletta, lo Stato attraverso il Green Pass vi limita le libertà personali. Questo è già realtà in Cina. È una realtà che non vorremmo vedere anche in Italia. Grazie a tutti.